Memoria Hardware Memoria è la RAM, Random Access Memory, del computer che influisce molto sulla sua velocità come memoria è il supporto sul quale salviamo i dati, hard disk, CD-ROM, USB Drive, ecc. E se non bastano mai, i programmi dei computer aumentano a dismisura le istruzioni e occupano sempre più spazio. Fortunatamente la tecnologia avanza e i costi diminuiscono.